Benvenuti a tutti e a tutti, buon pomeriggio. Buongiorno, sono Franco Amerini, sono il responsabile per Ritogli Education dell'area umanistica superiori. Parliamo oggi di eroi di epica, è un tema che mettiamo in relazione a una nostra nuova antologia, Vivere i testi, e ne parliamo quindi con una delle coautrici, la professoressa Anna Però. Eccola qui. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, Anna. Anna, però, ha insegnato religioni del mondo classico all'Università di Milano, quindi è proprio a casa sua, diciamo, in questo argomento. Insegna alle scuole superiori sempre a Milano e, appunto, soprattutto è dal nostro punto di vista coautrice della antologia Vivere i testi. Quindi, di tutti i temi che si possono affrontare nell'insegnamento dell'italiano al BN, oggi ci orientiamo, diciamo, a questo tema dell'epica ed in particolare la domanda che sostiene l'intervento della professoressa, però, riguarda il modo di poter coinvolgere e motivare i ragazzi nello studio dell'epica. probabilmente, adesso ce lo dirà Anna stesso, naturalmente, è un modo che immagino non sia troppo corrivo, voglio dire, nel senso che attualizzare sì, ma la funzione di voi docenti e anche la funzione di un manuale scolastico, naturalmente, dal nostro punto di vista, non è quello di una serie televisiva. Noi non facciamo Game of Thrones, naturalmente, questo può essere utile poi, può essere un elemento utile, ma naturalmente dobbiamo affrontare la cosa da un punto di vista adeguato in senso didattico ed in senso culturale. Io davvero non ho altro da aggiungere, lascio la parola alla professoressa però. Buona visione a tutti e a tutti. Grazie. Grazie Franco per questa introduzione, grazie per l'invito e grazie a tutti coloro che si stanno collegando e che ascolteranno questa mia breve chiacchierata. Dunque, in effetti partiamo proprio da questa considerazione così un po' generica, cioè il mito e l'epica sembrano effettivamente, tra tutti i generi letterari, quelli un po' più, l'epica in particolare, sembra un po' lontana effettivamente dal nostro mondo e dal mondo soprattutto dei nostri studenti. E voglio partire proprio da un brano che subito tutti avrete immediatamente riconosciuto, che in effetti sembrerebbe proprio farci pensare che sia effettivamente così. E ovviamente, l'avrete appunto riconosciuto tutti, il proemio dell'Iliade tradotta da Vincenzo Monti. A leggere appunto queste parole che ricordiamo, abbiamo tutti quanti lette un po' a scuola, insomma, sono diventate ormai molto molto celebri, in effetti troviamo immediatamente, ci scontriamo immediatamente con un linguaggio, insomma, ovviamente necessariamente arcaico, un italiano dell'Ottocento, come logico, e con termini che sono difficili per uno studente da comprendere, che hanno necessariamente bisogno appunto di una spiegazione. La diva, che sarebbe la musa per esempio, ma chi è la musa? Va spiegato ovviamente. Il Pelide Achille, e allora i patronimici, questo uso così insolito per noi. E poi anche figure come per esempio l'orco, che cos'è l'orco? Va ovviamente appunto tutto corredato di un apparato di spiegazioni abbastanza pesanti. Ecco, ovviamente per tutti questi motivi penso che nessuno di noi proporrebbe oggi in un'antologia appunto questa traduzione dell'Iliade, perché in effetti è una traduzione che ha un valore ormai soprattutto come opera letteraria di per sé, cioè come opera appunto di Vincenzo Monti, piuttosto che come traduzione appunto dell'Iliade. D'altronde, se vogliamo dar retta al celebre malizioso giudizio che espresse Foscolo su Monti, appunto, Monti era gran traduttor dei traduttori domero, insomma pare che non avesse una conoscenza molto approfondita del greco e quindi si sia basato piuttosto su traduzioni insomma in latino o in italiano, fatte da altri insomma dell'opera. Quindi appunto la sua opera è più importante come rivisitazione dell'Iliade che non come appunto traduzione fedele. E proprio in effetti questo testo che ci può sembrare così lontano, ci serve invece per capire che l'epica è il mito, che poi è il tema di cui parla più spesso l'epica, sono in realtà vicini a tutti coloro che li leggono nelle varie epoche, nei vari luoghi. Proprio appunto questa Iliade così ottocentesca ce lo fa capire, perché appunto si tratta di una rilettura del mito e dell'epica antichi fatta in una certa chiave, con una certa ottica. Il mito in effetti che appunto è ovviamente il tema centrale dell'epica, si può dire che sia immortale. In che senso? Ho citato in questa slide che vedete una definizione che è stata data del mito da parte di uno dei più grandi storici delle religioni antiche, in particolare di quella greca, che è Walter Burkert, che ha definito il mito un racconto applicato. In che senso? Un racconto perché comunque il mito è una narrazione sostanzialmente, che conserva sempre un nucleo narrativo, qualsiasi sia il mezzo attraverso cui è diffuso o è appunto raccontato. E però è un racconto applicato, proprio nel senso che è un racconto capace di cambiare aspetto, capace di adattarsi ai contesti diversi in cui viene utilizzato, in cui viene appunto raccontato o riraccontato. Sarebbe possibile offrire infiniti esempi di come figure del mito siano presenti in maniera molto molto concreta anche nella nostra realtà quotidiana. Io ho voluto sceglierne uno, che è questa statua di uno scultore polacco che è morto qualche anno fa, Igor Mitorai, perché mi sembra che intanto la statua sia sempre qualcosa di estremamente presente, cioè una presenza molto fisica in quanto proprio oggetto, e che però richiama proprio per sua natura qualcosa di diverso, di altro rispetto al contesto in cui si trova. In questo caso poi vedete la statua di Mitorai appunto che raffigura un centauro, è collocata in una piazza modernissima di Londra, davanti a un grande grattacielo che ha le caratteristiche architettoniche tipiche dei nostri anni, tutto di vetro sostanzialmente. Quindi si vede molto bene il contrasto appunto tra questa figura spiazzante quasi e il contesto appunto in cui si trova. L'artista Mitorai voleva forse alludere, proponendo questa figura del centauro, alla duplice natura di questa figura mitologica, che può essere interpretata in mille modi, perché per esempio potrebbe essere un'allusione alla ricerca di un equilibrio fra il corpo e la mente, fra lo spirituale e il materiale, che l'uomo moderno cerca ma che difficilmente trova. E infatti se ci fate caso, come è tipico di questo artista, la statua non è intera, insomma, fra virgolette, è frammentaria, insomma, perché evidentemente questo equilibrio non si riesce a raggiungerlo. D'altronde la figura del centauro, che l'artista ha voluto scegliere, è veramente una figura che fa capire bene come i personaggi del mito siano davvero interpretabili in mille modi, perché il centauro, per esempio, può essere il centauro saggio, e il più noto centauro saggio è Chirone, il centauro che educa i grandi eroi, come in questo fresco da Ercolano, lo vediamo appunto con Achille, per esempio. E in questo caso quindi il centauro è saggio perché trae il meglio da entrambe le sue nature, insomma, da quell'animale, da quella ferina. Però il centauro può essere anche nesso, il centauro appunto ferino, selvaggio, violento, che in questa statua di Giambologna vediamo infatti nel momento in cui viene ucciso da Ercole, che non a caso è invece nel mito l'uccisore di mostri, il civilizzatore che annienta queste figure che sono proprio rappresentative dell'inciviltà, di tutto ciò che è contrario alla civilizzazione, insomma. Ecco, ho fatto questo esempio del centauro soltanto per farvi vedere come appunto una semplice figura del mito si presta a infinite riletture e anche a, come dire, a stimolare riflessioni davvero profonde e varie, e davvero varie. E in effetti, se torniamo allora al nostro Monti e alla sua Iliade da cui siamo partiti, è chiaro che anche lui ha fatto un processo di rilettura dell'Iliade appunto, dell'Eipos antico. È molto così, è comprensibile studiando il contesto in cui lui ha scritto questa traduzione, che evidentemente ci sono richiami alla realtà contemporanea, siamo appunto in età napoleonica sostanzialmente, e quindi è chiaro che gli eroi di Omero per Monti erano affini agli eroi contemporanei. E qua mi richiamo anche al titolo di questo mio breve intervento, eroi appunto tra passato e presente, perché in effetti è questo che succede. E per capire questa interpretazione che ha dato Monti appunto degli eroi epici, possiamo per esempio pensare a quello che ha fatto in un'altra arte, nella scultura, il suo grosso modo contemporaneo Canova, neoclassico, quindi scultore neoclassico, quindi insomma appunto sicuramente ispirato all'arte classica, però anche qua l'arte di Canova non è una copia pure semplice dell'arte antica, è una rilettura ancora una volta dell'arte antica. E anche in questo caso vi propongo un esempio significativo, la statua a ritratto che Canova fece di Napoleone, proponendolo però sotto le vesti di Marte, Marte Pacificatore. Quindi si ispira appunto al mito, alla religione antica, per proporre appunto una mitizzazione sostanzialmente della realtà contemporanea. La storia di questa statua è molto illuminante da questo punto di vista, perché sappiamo che appunto fu commissionata proprio dallo stesso Napoleone a Canova e però poi quando effettivamente Canova la presentò, Napoleone non fu molto soddisfatto, perché pare abbia detto che gli sembrava troppo atletico questo Marte. È davvero significativo, perché è come se il personaggio appunto che era stato idealizzato e mitizzato da Canova si rendesse conto di non essere all'altezza della trasposizione mitica che appunto l'artista aveva fatto di lui. Ed è veramente una cosa eccezionale insomma da parte di Napoleone che non è certo noto per essere un personaggio modesto come sappiamo bene. Fra l'altro, come sempre, le storie delle statue sono interessanti, intriganti, perché quando poi Napoleone fu sconfitto, insomma persa il potere, la statua venne addirittura regalata al duca di Wellington, il vincitore di Waterloo, da parte dei regnanti francesi che erano ritornati sul trono. Quindi insomma un paradosso, una storia paradossale come sono appunto spesso le storie delle statue. Però ecco, questo ci interessa per dire che quindi per Monti e per Canova evidentemente gli eroi, i personaggi mitici o gli eroi dell'epica antica erano leggibili diciamo come maschere, come figure interpretabili anche in una chiave assolutamente contemporanea e assolutamente moderna. E allora mi chiedo ma per noi invece che cosa sono appunto i personaggi del mito e i personaggi dell'epica? Noi come li vediamo, come li leggiamo questi personaggi? Propongo una risposta, una possibile risposta, citando un passo dell'introduzione che Cesare Pavese ha premesso a questa sua opera che sono i dialoghi con Leuco. un'opera che è stata un po' trascurata per molti decenni in realtà dopo che è stata scritta e poi però insomma diciamo negli anni 2000 recentemente ha avuto una certa è stata riscoperta ecco è stata giustamente riscoperta perché è un'opera molto importante nel quadro della produzione di Pavese ma anche proprio per illustrare quello di cui vi sto parlando oggi. Intanto ecco quello che dice lui è questo i miti che cosa sono insomma sostanzialmente come li vediamo noi? Lui dice i miti sono qualcosa che tutti ricordano tutti ammirano un po' straccamente e ci sbadigliano un sorriso cioè in sostanza sono qualcosa che tutti pensiamo già di conoscere perché chi è che non conosce il mito di Edipo per dire e però insomma ci rapportiamo ai miti e quindi anche appunto alle storie dell'epica con quasi una specie di di supponenza talvolta è molto efficace l'espressione che usa Pavese ci sbadigliano un sorriso è qualcosa di divertente ma anche qualcosa di un po' forse noioso datato insomma dunque vi dicevo questo libro di Pavese è interessante perché davvero la sua vicenda editoriale la sua vicenda poi la sua fortuna più che la vicenda editoriale è un esempio interessante di come noi moderni diciamo ci rapportiamo appunto al mito e all'epica quando dicono i moderni ovviamente intendo dire intendo dirlo in maniera relativa perché appunto il libro di Pavese è del 47 però insomma diciamo gli uomini del 900 e poi anche dopo come si rapportano a queste tematiche dunque intanto nei dialoghi con l'EUCO Pavese fa esattamente quello che hanno fatto abbiamo visto prima Monti e Canova cioè riprende il mito antico e anche l'epica anche le storie dell'epica e le rielabora le riscrive in una forma assolutamente moderna dimostrando confermando quello che diceva Burkert cioè che il mito è un racconto applicato e si può quindi può vivere infinite vite sostanzialmente in questo libro infatti Pavese riprende sostanzialmente episodi dell'Iliade e dell'Odissea cita anche qualche altro autore classico Ovidio per esempio ma non molti di più soprattutto appunto gli autori dell'epica e si inserisce si insinua diciamo nei vuoti lasciati da da Omero e dagli altri autori costruendo delle vicende ipotizzando come avrebbe potuto andare insomma per esempio e sono l'opera è costruita appunto in dialoghi ecco perché dialoghi con l'Eucon dunque appunto una riscrittura modernissima del mito in cui si parla di temi che però sono sempre attuali insomma anche se vengono proprio tratti da vicende molto molto antiche perché i temi fondamentali sono il rapporto fra uomini e dei quindi fra mortalità e immortalità fra uomini e donne fra uomo e natura cioè sono veramente temi assolutamente sempre attuali direi e vi propongo un brano da uno dei dialoghi con l'Eucon che si intitola Il mistero in cui sono dialogano fra loro due divinità Dioniso e Demetra che sono non a caso le due divinità che vengono considerate nel mondo nella mitologia greca le più filantrope diciamo Dioniso è il dio che ha donato agli uomini il vino ma anche il teatro e Demetra è la dea che ha donato agli uomini il grano che è proprio l'elemento che caratterizza l'umanità sostanzialmente noi gli uomini sono mangiatori di grano e bevitori di vino dunque Dioniso dice questi mortali sono proprio divertenti noi sappiamo le cose e loro le fanno senza di loro mi chiedo che cosa sarebbero i giorni che cosa saremmo noi olimpici ci chiamano con le loro vocette e ci danno dei nomi hanno un modo di nominare se stessi e le cose e noi altri che arricchisce la vita come i vigneti che hanno saputo piantare su queste colline dappertutto dove spendono fatiche e parole nasce un ritmo un senso un riposo e Demetra risponde e le storie che sanno raccontare di noi sanno darci dei nomi che ci rivelano a noi stessi gli acco e ci strappano alla greve eternità del destino per colorirci nei giorni e nei paesi dove siamo ecco due divinità discutono fra loro e riescono a cogliere l'essenza della natura umana cioè qual è l'essenza dell'uomo agli occhi degli dei e il desiderio costante di dare un senso alle cose il senso è dato dal nome per esempio gli uomini danno nomi alle cose ai luoghi agli animali agli stessi dei e raccontano raccontano storie ecco questa è diciamo l'essenza della natura umana come viene raccontata appunto da queste due divinità e quindi come viene raccontata da Pavesa insomma ecco ma qual è la vicenda di cui vi parlavo di questo libriccino di questo prezioso libriccino di Pavese è una di quelle vicende davvero molto tristi perché quando uscì appunto nel 1947 questo libro fu completamente ignorato dalla critica oppure fu stroncato fu criticato aspramente ci fu solo un'eccezione di critica positiva ci fu solo veramente solo una una critica ufficialmente positiva che fu quella di Mario Untersteiner che era un filosofo un antichista docente a Milano e che insomma comprese il senso di questo libro lo apprezzò molto gli altri invece lo stroncarono o addirittura lo ignorarono perché venne considerato una sorta di evasione dalla realtà siamo nel 1947 la guerra la seconda guerra mondiale è finita da poco o da pochi anni e si ritiene che un intellettuale un artista come Pavese debba dedicarsi esclusivamente a una scrittura di tipo realista o neorealista insomma visto il genere letterario che appunto era più praticato in quegli anni doveva dedicarsi al compito di ricostruire una nuova Italia di educare gli italiani sopravvissuti appunto a questo trauma della guerra e quindi in particolare anche i vertici per esempio del partito comunista a cui Pavese era iscritto lo stesso Togliatti veramente criticarono molto questo libro perché parve loro appunto una fuga una specie di fuga in un mondo di favola ma in realtà non è assolutamente così perché quello che non capirono questi detrattori è che in effetti Pavese stava facendo esattamente la stessa cosa scrivendo appunto i suoi dialoghi la stessa cosa che facevano gli autori neorealisti la stessa cosa che fecero poi i registi neorealisti negli anni successivi insomma cioè descrivere la vita descrivere l'umanità in questo libricino appunto di Pavese si parla di ve l'ho detto si parla di vita di morte di guerra di violenza della ricerca di un senso dunque è la stessa cosa soltanto che Pavese ha voluto farlo ha voluto raccontare questi temi usando il linguaggio del mito perché ha compreso che sarebbe stato più universale e più immortale forse insomma di altre cose però non c'è differenza solo per citare appunto un esempio di cinema neorealista non c'è differenza fra un film come La Ciociara per dire che risale in realtà qualche anno dopo e appunto i racconti che vengono fatti da Pavese in questo libro cioè anche lì si parla di guerra di violenza di una madre di una figlia della ricerca appunto di un senso in questa realtà davvero spesso inspiegabile e incomprensibile ecco i miti e l'epica e quindi il libro di Pavese parlano esattamente delle stesse cose quindi c'è un'attualità del mito appunto che qualche volta non viene capita e allora da questa vicenda appunto emblematica del libro di Cesare Pavese vorrei proporvi appunto una sorta di sintesi insomma come ci rapportiamo noi a questi temi ai temi del mito e alla narrazione che di questi temi viene fatta nell'epica ci rapportiamo credo in due modi sostanzialmente cioè da una parte li riteniamo lontanissimi da noi e quindi di conseguenza incomprensibili pensiamo appunto a un ragazzo che legge per la prima volta appunto il prologo dell'Iliade di Monti ecco la prima impressione forse proprio che sia una qualcosa di lontano e di incomprensibile addirittura l'altra conseguenza del considerarli lontanissimi è quello di come dice come direbbe Pavese sbadigliarci un sorriso cioè di considerarle delle storie divertenti e l'atteggiamento di chi si ferma all'apparenza di chi si ferma al al fatto di Zeus che ha molte mogli che ha molte scusate ha molte amanti è una moglie gelosa ecco e allora è una cosa divertente e quindi viene considerata anche appunto un'evasione dalla realtà ed è quindi l'atteggiamento di chi appunto non ha compreso per esempio il valore dei dialoghi con l'Eucò di Pavese considerandoli una deroga insomma un rifiuto da parte dell'autore di impegnarsi più seriamente in qualcosa di più serio l'altro atteggiamento opposto è quello di considerarli vicinissimi a noi il mito e l'epica e questo credo sia un po' quello a cui alludeva Franco nell'introduzione dicendo che appunto si rischia in questi casi di scadere in una banalizzazione di questi temi e di questo genere letterario l'epica perché pensiamo che in fondo quindi siccome in fondo si parla sempre delle stesse cose allora in fondo il mito e l'epica parlano veramente di noi sono attualissimi attualizzabili in ogni modo eccetera ecco e appunto si arriva a pensare come fece evidentemente Canova per esempio che Napoleone potesse essere Marte ecco però addirittura appunto lo stesso Napoleone storse un po' il naso evidentemente ma dunque entrambi questi atteggiamenti se estremizzati sono sbagliati e invece l'atteggiamento diciamo preferibile è quello di una giusta distanza come sempre insomma quando si parla di fenomeni che riguardano il mondo antico soprattutto cioè è vero il mito e l'epica sono davvero lontani da noi perché comunque sono nati in un contesto diverso e se vogliamo comprenderli davvero dobbiamo ricollocarli in quel contesto inevitabilmente però allo stesso tempo parlano anche di noi perché comunque i temi di cui parlano davvero sono eterni e sono sempre attuali quindi per esempio se voglio comprendere il significato che aveva il mito di Oedipo per i greci del quinto secolo per Sofocle che scrisse appunto una tragedia su questo tema non posso che ritornare alla Grecia del quinto secolo non devo per forza comprenderla in quel contesto e non posso per esempio basarmi sull'interpretazione che di questo mito ha dato Freud per comprendere cosa pensavano i greci del quinto secolo perché Freud parlava di pulsioni di tematiche di problemi che riguardavano i suoi pazienti viennesi della fine dell'ottocento dell'inizio dei primi del novecento insomma i suoi pazienti non erano gli ateniesi del quinto secolo quindi non non possiamo appunto banalizzare o avvicinare troppo queste tematiche non possiamo però possiamo appunto cercare di trovare una mediazione fra questi due atteggiamenti contestualizzando i testi e i temi di cui parliamo ma mostrandone anche la grande e costante attualità e in effetti questo è quello che abbiamo cercato di fare noi appunto nella nostra antologia vivere i testi in particolare proponendo una una rubrica insomma che abbiamo voluto proprio intitolare intrecci con il presente proprio per mostrare appunto quali possono essere i collegamenti di questi temi mitici e di questo genere letterario epico con il nostro presente mantenendo però la giusta distanza nel senso che ovviamente ognuno dei testi dell'epica proposti o dei testi che riguardano appunto i miti sono ovviamente corredati da un apparato che permette di comprenderne il momento della composizione il significato diciamo originario e via dicendo e invece la sezione appunto intrecci con il presente è come un di più che viene aggiunto alla lettura diciamo filologica di questi di questi testi ognuno di questi intrecci col presente appunto fa riferimento a una sezione del volume di epica quella sul mito appunto l'Iliade l'Odissea e l'Eneide e in particolare per esempio nel caso dell'Iliade abbiamo scelto come figura emblematica Achille perché in effetti è proprio un po' l'eroe per antonomasia insomma l'eroe dell'epica per antonomasia e in questo caso per esempio è molto interessante la lettura che di questa figura viene fatta in un articolo di un grecista vivente insomma anche lui appunto ha scritto molti testi sul mito ma è anche docente alla statale Giuseppe Zanetto che propone appunto una lettura diversa di Achille per mostrarci come Achille può essere anche un personaggio del nostro vivere quotidiano in particolare la lettura che lui propone parte da un passo dell'Iliade nel nono libro dell'Iliade appunto in cui Achille si è ritirato dalla battaglia e sta forse addirittura pensando sognando forse un'alternativa una vita alternativa un futuro alternativo per 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 sé è molto significativo molto bello anche questo passo che Zanetto riporta in cui appunto Achille dice niente per me vale quanto la vita neppure i tesori che Priamo conserva nella rocca di Troia mandri e greggi si possono rapire tripodi e cavalli si possono acquistare ma la vita di un uomo non la si può riprendere quando ha superato la barriera dei denti ecco intanto vi faccio notare come anche in questo caso anche in questo passo che ci come dire ci arriva subito cioè capiamo subito il patos che c'è dentro però attenzione perché anche in questo caso c'è un rapporto di vicinanza lontananza perché dice quando la vita ha superato la barriera dei denti che cosa vuol dire come sappiamo per Omero la vita coincide con il respiro la psuche e quindi insomma quando un un eroe muore la vita esce col suo ultimo respiro quindi anche in questo caso è necessario appunto comprendere cosa voleva dire per nel contesto in cui è nato ecco però allo stesso tempo ecco ci presenta un Achille davvero insolito davvero diverso forse da quello che ci aspettiamo perché sembra quasi appunto ricordare piuttosto il famoso episodio dell'Odissea in cui Odisseo lo incontra nell'Ade incontra Achille morto nell'Ade e Achille dice la famosissima frase preferirei essere l'ultimo dei serbi piuttosto che il re dei morti come annegare tutto quello che aveva fatto in vita insomma quindi Achille è davvero in fondo uno di noi anche in questo aspetto magari meno noto per illustrare la figura di Achille ho riportato un'immagine che anche questa l'avrete riconosciuta tutti da un film dal film Troy del 2004 ho riportato questa immagine perché il cinema è proprio uno di quei canali che dimostrano magari in maniera più immediata il modo in cui appunto i temi del mito e dell'epica vengono reinterpretati e riattualizzati è chiaro che un personaggio come Achille per esempio in questo film viene interpretato in una chiave assolutamente moderna perché ne vengono esaltati alcuni aspetti tradizionali la forza l'eroismo il coraggio eccetera però per esempio viene sottolineato molto l'aspetto sentimentale questo grande amore tormentato con Briseide che è un tema davvero molto moderno quindi c'è una chiara rilettura appunto contemporanea dell'epica e del mito un altro eroe molto interessante per la rilettura moderna che se ne può fare è Enea Enea che qualche volta viene un po' trascurato perché forse è meno popolare meno noto di Achille e di Ettore per esempio in realtà però Enea è davvero estremamente attuale perché ho intitolato questa slide l'uomo che soffre nel senso che Enea è il senza patria insomma colui che fugge da una terra distrutta dalla guerra alla ricerca di una nuova patria che però non conosce quindi va verso ignoto è addirittura stato detto appunto recentemente che Enea è sostanzialmente un migrante ecco e lo si può leggere in un certo senso in questo modo e nell'intreccio col presente che abbiamo costruito appunto intorno alla figura di Enea abbiamo proposto la lettura che ne fa Caproni Giorgio Caproni che in questo suo questa sua poesia appunto il passaggio di Enea prende proprio si identifica molto con la figura di Enea ed è lo stesso Caproni che in un altro suo appunto in un'altra sua opera racconta come nasce questo senso di vicinanza con Enea Caproni è a Genova durante la guerra la seconda guerra mondiale la città è devastata dai bombardamenti e in una piazza nella piazza bandiera a Genova appunto vede questa statua che è proprio quella che vedete qui nell'immagine una statua appunto di Enea e prova questi sentimenti che esprime con queste parole dice ecco è proprio il simbolo dell'uomo d'oggi Enea con sulle spalle una tradizione che ormai crolla da tutte le parti perché è stata sbugiardata dalla guerra qui là e lui però cerca di portare in salvo e per la mano un avvenire che invece di accompagnarlo ha bisogno di essere sorretto la figura di Enea quindi con il padre anchise sulle spalle il piccolo Iulo per mano veramente rappresenta l'uomo che vive appunto la guerra in un mondo appunto nei cocci davvero di un mondo che crolla e alla ricerca di qualcosa che non si sa come sarà dunque questa è la prima diciamo direzione nella quale abbiamo voluto proporre gli intrecci col presente cioè proporre figure brani appunto testi che mostrano la grande attualità di queste figure mitiche ed epiche l'altra direzione però in cui siamo andati è proporre invece le grandi le infinite variazioni sul tema dell'epica e del mito che sono state appunto proposte dagli scrittori nelle varie epoche ritornando al discorso che il mito appunto è un racconto applicato quindi si può veramente raccontarlo in modi infiniti davvero e allora in questo caso per esempio nel capitolo sul mito abbiamo proposto il racconto di Borges la casa di Asterione e un brano dal romanzo di Durrenmat la morte della Pizia nel caso di Borges la cosa interessante è che a parlare è Asterione ovvero il minotauro quindi appunto il racconto è fatto dalla parte del mostro insomma e nel caso di e quindi vabbè ovviamente è un punto di vista che nel mondo antico non era mai stato proposto per esempio nella letteratura tradizionale classica e invece nel caso di Durrenmat un racconto un breve romanzo insomma assolutamente dissacratorio sarcastico presenta la storia di Edipo tanto per ritornare su Edipo in modo davvero anticonvenzionale insomma una tragedia ridicola l'ho intitolato perché in effetti sia Edipo sia la stessa Pizia sono presentati come figure davvero quasi prive che quasi perdono di senso insomma ecco quindi una rilettura diciamo postmoderna di questi di questi miti e poi ancora sempre nel discorso varianti e riletture del mito e dell'epica tutta un'altra storia cioè come come hanno raccontato autori moderni vicende epiche tradizionali dando la voce a qualcuno che di solito non ce l'ha per esempio la Maria Grazia Ciani in un recentissimo romanzo che si intitola La morte di Penelope fornisce appunto una versione diversa della storia di Penelope davvero davvero molto diversa da quella tradizionale insomma oppure nel romanzo Lavinia Ursula K. Leghen propone il punto di vista di un personaggio che come ricorderete nell'Eneide non parla mai Lavinia è muta è un personaggio che benché abbia un ruolo fondamentale nello sviluppo della trama non parla mai e questa volta invece è lei che racconta tutta la storia di Enea dal suo punto di vista ancora Ungaretti in un brano tratto dal poema che aveva pensato di scrivere La terra promessa che doveva appunto parlare di Enea e che però poi è rimasto incompiuto racconta e descrive il punto di vista di Didone dopo che è stata abbandonata da Enea dunque possiamo quindi affermare con grande certezza che il mito e l'epica non sono affatto morti ma sono vivissimi e infatti esistono anche miti ed epopee assolutamente moderni vi propongo tre esempi anche qua tra i mille che potrebbero essere proposti il primo che vi propongo è la conquista del West diciamo ecco qua vi ho proposto un fotogramma da un western che forse è uno dei più famosi insomma delle origini del western ombre rosse del 39 è uno di quei casi in cui la storia viene mitizzata e anzi viene trasformata in un'epopea in un'epica vera e propria la cosa interessante che viene raccontata questa epopea attraverso la narrativa western attraverso il cinema western e subisce un'evoluzione perché questo film per esempio del 39 appunto presenta tutti i tratti canonici dell'epica ma di un'epica appunto originale mi spiego c'è l'eroe che è ovviamente John Wayne ci sono soprattutto i cattivi indiani pelle rosse nativi americani dovremmo dire più correttamente poi noi sappiamo benissimo che il racconto di questa epica moderna si evolve si cambia nel tempo perché successivamente negli anni negli anni 60 negli anni della contestazione nasce il cosiddetto cinema western revisionista e arriviamo fino a balla coi lupi del 90 in cui invece il punto di vista è cambiato e l'indiano che era cattivo che era incivile viene visto invece da un altro in un modo più complesso e molto spesso è invece il colonizzatore che diventa incivile interessante vi faccio notare che questa evoluzione che nell'epopea western è avvenuta in molti anni nel mito antico nell'epica antica c'è da subito perché nell'Iliade se ci pensate greci e troiani sono esattamente identici non c'è l'idea del civile contro l'incivile del barbaro i sentimenti e le vicende sono assolutamente identiche un altro mito moderno stranoto è quello di Star Wars Guerre Stellari qua davvero possiamo dire con certezza che si tratta di un mito moderno perché sappiamo che George Lucas si è ispirato a uno dei tanti libri di questo autore che si chiama Joseph Campbell che è un po' un mitologo che in realtà fa un po' quello che io vi ho detto che non bisogna fare cioè mette insieme tutti i miti di tutte le epoche di tutti i luoghi e cerca un po' diciamo degli archetipi junghiani grossomodo però ecco è interessante perché appunto Star Wars è costruito in questo modo c'è il Luke che è praticamente l'eroe giovane che è stato allontanato dal suo regno è abbandonato cresce lontano poi scopre le sue radici il saggio Obi-Wan Kenobi diciamo che ha un po' la funzione di Chirone ecco diciamo e via dicendo insomma l'antagonista e così via l'ultimo mito moderno di cui voglio parlarvi è uno che ci riguarda un po' più da vicino che però forse è meno meno noto insomma la leggenda del Piave la canzone che forse tutti abbiamo un po' orecchiato perché è un mito moderno perché racconta in maniera epica e mitica la storia cioè la storia è ovviamente quella della prima guerra mondiale la guerra italiana sul fronte dell'isonzo e del Piave in cui il Piave appunto il fiume si comporta proprio come quasi una divinità l'inizio ce lo ricordiamo tutti appunto il 24 maggio il Piave mormorava lento e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio quindi il Piave lieto dell'arrivo dei fanti italiani poi il Piave che si oppone all'avanzata degli austriaci dopo Caporetto e soprattutto un evento che effettivamente ci fu cioè una piena del fiume che impedì appunto agli austriaci di sorpassare il fronte del Piave viene appunto raccontata in questa canzone come un evento appunto quasi epico quasi mitico il Piave si ribella e si oppone al nemico ecco ritornando all'epica non può non venirci in mente l'episodio l'episodio dell'Iliade in cui il fiume di Troia il fiume che c'è vicino che scorre vicino a Troia si ribella contro Achille perché Achille sta facendo una strage di di Troiani e quindi lo scamandro appunto il fiume di Troia cerca di travolgerlo cerca di ucciderlo si ribella appunto a questa uccisione indiscriminata che lui sta facendo quindi miti ed epopee assolutamente attuali dunque concludendo ripartendo ritornando alla domanda che ci siamo posti all'inizio l'ultima risposta a questa domanda vorrei lasciarla ancora a Cesare Pavese perché forse sapete che lui teneva talmente tanto a questo libro ai dialoghi con Leucò che scrisse sopra una copia che si era portata con sé di questo libro il suo ultimo messaggio prima di morire e oltre però all'ultimo messaggio che è quello più famoso in cui lui dice non fate troppi pettegolezzi insomma cose di questo tipo nel libro aveva anche copiato questi tre aveva anche scritto insomma questi tre appunti che sono davvero una risposta molto interessante secondo me il primo passo è tratto ancora una volta dai dialoghi con Leucò l'uomo mortale Leucò non ha che questo di immortale il ricordo che porta e il ricordo che lascia e poi gli altri due invece sono proprio delle affermazioni sue di Pavese dice ho lavorato ho dato poesia agli uomini ho condiviso le pene di molti e poi ho cercato me stesso queste tre affermazioni penso che potrebbero essere una al di là di che cosa fossero per lui insomma non lo sapremo mai forse una una giustificazione una sintesi insomma della sua vita della sua opera potrebbero essere considerati una giustificazione una sintesi in generale di tutta l'arte l'arte serve per ricordare serve per condividere la sofferenza degli uomini serve per cercare se stessi ma in questo caso li utilizzo utilizzo queste frasi bellissime di Pavese per giustificare l'attualità nonostante tutto del mito e dell'epica che fanno proprio questo sono un modo per mantenere vivo il ricordo del passato sono un modo appunto per spiegare cercare un senso come diceva appunto come dicevano Dioniso e Demetra nel dialogo il mistero quello che fanno gli uomini è questo cercano un senso alle loro sofferenze anche solo raccontandole e poi sono in fondo un modo per cercare tutto sommato anche se stessi e su questo mi fermo vi ringrazio davvero molto per la vostra attenzione spero di non essermi dilungata troppo e se ci fossero domande da parte vostra sono assolutamente disponibile ringrazio ringrazio molto la professoressa però Anna tu avendo parlato adesso non hai avuto modo di seguire non hai avuto modo di seguire la chat diciamo e quindi le domande i commenti che arrivavano qui e anche da da chi è collegato invece tramite youtube mi sembra che sia stato tra i tanti commenti particolarmente apprezzato quello che riguarda diciamo così la giusta distanza e immagino anche quello che tu chiamavi in una slide la giusta distanza anche in un'ottica di insegnamento in un'ottica didattica di uso a scuola di questi di questi temi quindi una distanza diciamo tra l'interpretazione più pop consentitemi di chiamarla così dei miti la maglietta del carpe nike tanto è vero che come sappiamo poi alcuni studenti chiamano atena atena nike insomma è successo che dei professori ce l'abbiano detto insomma e non e non atena nike inoltre tra le quello che tu hai messo molto bene in luce quindi le infinite varianti anche oggi quindi questa riserva inesauribile di senso del mito ha generato tra gli altri probabilmente non li ho visti tutti ma anche altre indicazioni molte altre ce ne potrebbero essere per esempio c'era c'era chi ha ricordato vari libri Itaca per sempre di Luigi Malerba oppure più vicino a noi il libro della Parrella il verdetto e poi anche un riferimento interessante a un infinito numero di vassalli interessante perché naturalmente la figura di Enea viene viene rovesciata quindi non è più non è più il fuggitivo il profugo ma è l'invasore quindi anche qui a dire quante diciamo come come diversamente si possono interpretare le figure le figure del mito vado subito vado subito a qualche a qualche domanda per te dunque la prima sei pronta perché è di portata non da poco scrive una professoressa partendo da ciò che tu dicevi a proposito di Pavese il mito secondo Pavese rappresenta esperienze umane ricorrenti comuni ad ogni epoca è un'esperienza al tempo stesso personale è un fenomeno collettivo il mito è sempre attuale è un valore universale anche perché senza senza il mito non è possibile la poesia ora la domanda è questa per noi oggi quale mito o quali miti possono aiutarci a vivere possono dare un senso alle cose domanda da due milioni di dollari come si usa a dire io forse ti lascio rispondere forse la declinerei anche diciamo nel senso scolastico di fronte ai ragazzi cioè non tanto l'un mito o l'altro ma forse il senso più in generale del racconto mitico stesso sì perché cioè non vorrei appunto scadere in quelle cose un po' così queste queste interpretazioni anche un po' troppo psicologiche che vengono date del mito io in realtà appunto penso che il mito sia sempre sia utile nel senso che appunto ci insegna ci insegna davvero a raccontare la nostra storia cioè io credo molto in quello che dice Pavese che gli uomini alla fine cercano un senso e il al di là dei contenuti appunto dei miti perché in fondo i miti ripeto a volte sono molto lontani in realtà da noi cioè non sono sempre così immediatamente utili sono davvero difficili da capire sono addirittura respingenti a volte perché per esempio il mito greco parla spessissimo di violenza di violenza per esempio sulle donne cioè è veramente appartiene a una società veramente diversa dalla nostra non possiamo dire ah sì adesso leggo il mito di Europa e miglioro la mia vita no però appunto il linguaggio del mito consiste in questo cioè consiste nel vedere l'esistenza la vita eccetera in maniera direi fra molte virgolette simbolica cioè anche in quel caso si tratta di prendere una giusta distanza dalla vita e raccontandola insomma si cerca di comprenderne un po' il senso poi detto ciò ovviamente ognuno di noi ha i suoi miti esistenziali ecco e allora ovviamente insomma a me viene subito in mente Eracle in realtà come figura molto molto emblematica perché Eracle veramente è l'eroe che lotta contro tutto ciò che è irrazionale cercando di dare ordine al caos ecco cioè per me io l'ho sempre letto in questo modo non solo io ovviamente e mi sembra veramente molto interessante però quello che succede proprio per spiazzarci per dirci che non è così semplice il mito è molto bello quello che succede nell'Erable di Euripide in cui Eracle che è l'eroe che ha ucciso tutti i mostri alla fine si trasforma in un mostro perché lui stesso stermina la sua famiglia e lì poi allora l'insegnamento insomma diciamo che se ne può trarre che pur essendo mostro lui stesso il suo amico Teseo gli dice sì ma io sono tuo amico quindi comunque vieni via con me insomma cioè se io devo dire che cosa ci possono che cosa ci può essere utile dei miti devo dire cioè mi viene in mente di dire che i miti davvero fotografano la realtà così com'è e però colgono ci permettono di cogliere le cose che sono anche che così che rendono umani gli uomini ecco mi rendo conto che è una risposta non soddisfacente però è difficile è davvero una domanda difficile allora procedo con un'altra domanda che dice chiede questo ritiene opportuno ed efficace proporre ai ragazzi in una prima liceo testi di epica con traduzioni molto semplificate e una resa stilistica dal punto di vista del lessico della sintassi del registro tendente al colloquiale io se se permetti rispondo brevissimamente dal mio punto di vista diciamo editoriale noi abbiamo fatto la scelta qui in vivere i testi nel volume di epica di vivere i testi ed è una scelta diciamo largamente condivisa di utilizzare per esempio per l'Elia dell'Odissea non naturalmente la traduzione di Monti per le ragioni che ricordavi tu all'inizio ma una traduzione che ormai ha una sua diciamo classicità in italiano ma anche una sua facilità di lettura che è quella di Rosa Calzecchionesti quindi una traduzione che naturalmente rinuncia in partenza alla resa rimica strofica diciamo e quindi diciamo che è in una però rimane rimane effettivamente la domanda della professoressa può essere può essere interessante forse una cosa di cui non può farsi carico non può farsi tanto carico un manuale sarebbe in qualche modo scorretto se noi non dessimo diciamo una traduzione accreditata ma la questione è interessante però sì è molto interessante tra l'altro permettimi di dire che la traduzione di Rosa Calzecchionesti è stata voluta da Pavese è la traduzione che lui fece insomma appunto in collaborazione strettissima con la con la Calzecchionesti quindi insomma vale anche quella vale come anche come documento letterario oltre che come traduzione dell'Iliade sì no è molto interessante io penso che da una parte comunque bisogna mantenere alcuni aspetti dell'epica che non possono essere cancellati cioè per dire i patronimici appunto oppure le formule perché comunque fanno parte dello stile insomma è come quando si non so mi era capitato di trovare un po' di tempo fa in libreria una versione della divina commedia in prosa e quello è no non si può cioè certi elementi stilistici devono assolutamente rimanere detto ciò secondo me si potrebbero affiancare le due cose cioè se per esempio un ragazzo è uno studente insomma è interessato all'Iliade o all'Odissea e a leggerla magari integralmente io gli proporrei una di queste versioni anche in prosa che sono state che esistono insomma e sono anche fatte da autori molto molto validi insomma cioè per leggerselo come un romanzo ecco poi però invece a livello scolastico no secondo me sono d'accordo con te cioè bisogna comunque leggerlo come un genere letterario con delle sue caratteristiche specifiche ecco un'altra suggestione rispetto a quello quindi le infinite varianti il canto di Penelope una professoressa ci ricorda il canto di Penelope della Margaret Atwood che anche qui è un po' come in Vassalli anche se in un senso diverso un rovesciamento quindi benissimo ancora una domanda forse abbiamo tempo di di porla c'è un mito che potremmo usare per narrare la storia dell'attuale pandemia beh insomma purtroppo l'epica e il mito sono pieni di pestilenze non c'è veramente niente di nuovo sotto il sole ecco questo è un altro insegnamento fra parentesi del mito che non siamo per niente originali cioè tutto già stato detto e già stato vissuto nell'Iliade ovviamente lo sappiamo tutti c'è la pestilenza mandata da Apollo ma il mito è veramente ricchissimo di pestilenze perché anche lì come funziona il mito le pestilenze c'erano anche nel mondo antico e allora si cercava di dargli un senso il senso è che è la vendetta degli dei e quindi poi la cosa bella del mito è che ed è il rito di conseguenza perché spesso sono legati e che quindi si può superare la crisi cioè la pestilenza è una crisi ma siccome nel mito è successo che la pestilenza è stata superata in un certo modo allora io ho la consapevolezza che se compirò quel determinato rito se mi comporterò in un certo modo la supererò anch'io ecco anche questa è la forza appunto del mito e quindi appunto ci sono nel caso dell'Iliade la soluzione è rispettare gli dei insomma rispettare i sacerdoti di Apollo e rispettare gli dei però appunto i casi sono infiniti perché nasce tutto proprio dalla crisi dalla crisi che deve affrontare l'umanità e allora viene raccontata in qualche modo la nostra difficoltà la nostra tragedia è che non abbiamo non possiamo ancora raccontarlo in un certo senso cioè non sappiamo ancora come 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 va a finire no e quindi insomma forse il racconto e però d'altronde mi viene da dire che è stato anche fatto di raccontare questo 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 momento che stiamo vivendo proprio per cercare di mitizzarlo fra virgolette insomma bene e mentre arrivano ancora altri suggerimenti diciamo di coinvolgimenti del mito o reinterpretazioni del mito nella letteratura dei nostri giorni Lavaglio con Didone per esempio Mastrocona infiniti infiniti potrebbe essere quasi potrebbe essere quasi un gioco io io credo Anna che noi dobbiamo chiudere qui siamo siamo già andati oltre il tempo del nostro collegamento mi scuso molto con tutte le domande che sono arrivate e alle quali non non riusciamo a trovare tempo per dare una risposta mi pare comunque proprio dal coinvolgimento delle partecipanti e dei partecipanti che la tua lezione sia piaciuta molto sia stata molto stimolante io ringrazio anzitutto la professore Sanna però e naturalmente tutti voi che avete voluto partecipare grazie ancora e ai prossimi appuntamenti di Rizzoli Education buona serata a tutti grazie buona serata grazie grazie Franco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti